Salve a tutti razzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di news e info di The Sims 4 stagioni. Anche oggi siamo stracolmi di nuove cose da vedere. La prima, del quale non vi ho parlato in questi giorni, è la conferma e l'aggiunta dell'arcobaleno nei nostri quartieri. Lo avevamo già nella radura silvestre, ora l'arcobaleno ci sarà di default anche durante il temporale, quindi quando cambierà il tempo. Avremo anche l'arcobaleno nei quartieri di The Sims 4. Ma andiamo a leggere i nuovi tweet dei nostri SimGuru che ci danno tante, tante soddisfazioni. Prima cosa, credo molto importante per chi utilizza i CC, non è il mio caso ma giustamente molti di voi scaricano gli oggetti personalizzati, è che i CC, quindi i vestiti CC personalizzati, risentono delle stagioni. Quindi se voi scaricate un cappotto personalizzato, questo risentirà delle stesse condizioni di un cappotto di default presente nell'espansione. Quindi credo che questo sia una cosa molto molto importante per chi appunto utilizza i CC. Altra precisazione è quella della risposta a un utente, che si chiedeva, se io metto il calendario per un Sim, gli altri membri della famiglia lo vedono? E la risposta del SimGuru Emuri è stata, sì, all'interno della stessa famiglia il calendario vede tutte le festività. Ma non credo si riferisca a unità familiare attiva, intende dire albero genealogico e ha della logica, perché se ci pensate, se io ho due Sim vecchietti che hanno un figlio sposato con figli che vive in un'altra casa, ovviamente voglio che i nostri nonni vengano per il mio compleanno, probabilmente anche nell'altra unità familiare vedremo nel calendario compleanno di tizio, quindi del figlio. Ed è anche importante quando noi facciamo le vacanze, perché se noi vogliamo fare una vacanza di famiglia, probabilmente tutta la famiglia avrà il calendario, quindi l'evento, e credo sia reso molto molto importante. Anche questo vi fa capire quanto sia stato implementato in maniera complessa il calendario. E qui abbiamo finalmente l'interfaccia degli eventi. Ora vediamo che hanno un nome, in questo caso Holiday è generico, si chiama E-Play 2018, chissà perché, ma abbiamo anche l'orario, la categoria e anche l'iconcina della festa. Ora, l'orario è importantissimo, perché se ci pensate, se io faccio una festa di compleanno dalle 8 del mattino a mezzogiorno e alle 10 dalle previsioni mette pioggia, io posso decidere di mettere più oggetti, quindi all'interno e all'esterno della casa. Se magari si tratta d'estate, quindi possiamo fare mezza festa fuori, mezza festa dentro. Quindi anche questo rende tutto molto più realistico. Per il resto vediamo appunto l'iconcina, possiamo modificare o annullare l'evento, e credo che quest'iconcina la vedremo probabilmente domani, ma ne parleremo dopo. Altra cosa che è stata chiesta ai SimGuru è se i falò, quindi anche quegli aggeggi messi con il ristorante, quelle lanterne, diciamo, esterne per fare caldo, funzionano quelle stagioni. E giustamente la SimGuru Emory ha detto di sì, se noi mettiamo un falò durante una vacanza, che so, a Granite Falls e l'accendiamo, questo ci riscalderà, aumenterà la temperatura, così come tutte le cose legate agli eventi climatici, quindi qualcosa che cambia il clima. Per il resto la nostra SimGuru Emory non dice altro, ma su Facebook ragazzi è apparso un qualcosa di molto molto importante. Infatti nella pagina Facebook è apparso un nuovo post che ci dice cosa c'è nella scatola, e come vedete ci sono due numeri, apparsa una bambina in tenuta stagionale, quindi con la sciarpa e i vestiti di stagioni, che all'interno della scatola mostra due numeri, 7 e 6. Molte hanno pensato a luglio, ma The Sims 4 stagioni esce il 22 giugno, quindi no, si parla di domani, e molte teorie in realtà ci fanno capire cosa ci verrà mostrato, infatti è lo stesso SimGuruGeorge a farcelo capire, e ora vi spiego che cosa intendo dire. Questo tweet infatti spiega cosa probabilmente vedremo domani, credo sia arrivato il momento di iniziare a condividere qualcosa sulle tradizioni, le vacanze, cosa ne pensi domani forse? Quindi ragazzi sì, domani mi aspetto un teaser, un trailer, spero un pochino più lungo di quello di presentazione, me lo aspetto alle 19, di solito escono in quell'orario, ma io starò molto molto attento tutto il giorno, per poi registrare in diretta praticamente, e vedere un po' la reazione insieme a voi, quindi vi aspetta un bel video anche domani, e in pratica sì, vedremo tutte queste cose, e spero di non vedere altro ragazzi, perché mancano tre giorni al replay, e davvero le informazioni sono tantissime, per quanto mi piaccia scoprirle, però davvero se fanno vedere tutto adesso, adesso risulta un pochino pesante come cosa, quindi sicuramente si stanno ottenendo qualcosa ancora per sabato. Ci dice anche che sta lavorando a nuove cose, quindi l'oro continuano a lavorare, sono molto oltre le stagioni ragazzi, questo si sa, non è che ora è uscita a stagioni e l'oro non hanno più niente da farci vedere, no, sicuramente i game pack, i nuovi staff pack, magari le nuove espansioni stesse, la nuova espansione è già pronta, quindi l'oro stanno già lavorando in futuro, quindi magari stanno già sviluppando una nuova espansione futura che uscirà l'anno prossimo, o magari nuovi game pack, chi lo sa. Un altro tweet del mio sim guru preferito, sim guru grant, torna sulla questione di cani e gatti, e sembra fatta apposta visto che ne ho parlato ieri in un video, e lui dice che con cani e gatti, intanto il prezzo è rimasto invariato a 40 euro come tutte le espansioni, ma abbiamo scelto di concentrarci su cani e gatti, per andare davvero sul profondo, e un pochino è dispiaciuto del fatto che riconosce che alcune persone vogliono più contenuti, ma non più qualità. Ed è vero ragazzi, questo è il discorso che io vi faccio da tanti video. I contenuti di The Sims 4 possono sembrare incompleti, ma in realtà sono sviluppati benissimo, pensate solo ai vampiri, pensate davvero che non abbiamo Supernatural alla oggi, ma abbiamo solo i vampiri, ma come sono stati implementati? I cani e i gatti, come sono stati implementati? Non ci sono i cavalli, arriveranno magari con un altro DLC, nessuno dice niente, però la questione è che davvero, anche noi in realtà, tutti ci stiamo aspettando qualcosa di più da stagioni, non ci stiamo focalizzando sulla qualità del calendario, delle stagioni, eccetera, eccetera, ma vogliamo sempre qualcosa in più. E questo è sbagliato, un ragionamento sbagliato, perché dobbiamo apprezzare quello che ci danno, e soprattutto in un altro post, che dovrebbe essere un pochino più in alto, lui che dice? Dice anche che comunque non dobbiamo pensare sempre a The Sims 1, The Sims 2 e The Sims 3, anche perché davvero sarebbe ripetere le stesse cose ogni volta. Loro stanno cercando di rendere attuale un gioco che ha più di 18 anni in realtà, quindi ci sta, ci sta che The Sims 4 non abbia le stesse cose, non abbia il resort, o magari non abbia le sirene, non abbia altre cose, ma abbia novità come il calendario rispetto a tutti gli altri. È un po' il discorso che facevo sempre nel video di ieri, io che gioco a The Sims da 18 anni, dall'inizio, ovviamente mi aspetto qualcosa di diverso dal 3, non voglio le stesse identiche cose del 3, altrimenti gioco al 3. Quindi quello che vi dico ragazzi, è davvero che quando c'è da stoccarli, quindi in realtà quando c'è da criticarli, io sono in prima linea, lo faccio in maniera costruttiva, non parto da partito preso a dire The Sims 4 fa schifo, non lo gioco, non lo porto, non ne parlo. Io apprezzo il brand, apprezzo il loro lavoro, quindi vi dico, se c'è un difetto su The Sims 4, ne parliamo, vi esprimo il mio parere, perché vorrei che venisse migliorato, altrimenti se non mi interessasse, non ne parlerei neanche. Poi sì, qui abbiamo il lanciacose di The Sims 5, molto bene, hai sbagliato, devi dire The Sims 5, non The Sims 4, eh, chi se ne importa, l'abbiamo detto nel video di ieri. E quindi, sì ragazzi, la stessa gif, che ora vi voglio far vedere, se non ricordo male, era sempre su Emory, quindi torno un attimo su SimGuru Emory. Ok, no, in realtà era SimGuru George. Comunque, torniamo un attimo su questa gif, del quale abbiamo già parlato, vi ho spiegato quanto mi piace Salvadorada, eccetera. In realtà, ci racconta molto, molto di più in questi 9 secondi, rispetto a quello che vediamo. Ok, l'intento è quello di farci vedere Salvadorada, che piove, ma non è solo quello l'intento ragazzi. Loro ci stanno facendo capire, quanto sia ottimizzato il gioco, ne abbiamo già parlato. Per farvi un esempio, nell'episodio di The Sims 4, serie principale, che uscirà più tardi ragazzi, sul canale, e un episodio molto molto ricco, abbiamo fatto un sacco di cose, ma non vi spoilerò nulla, abbiamo però giocato nel resort. E proprio durante l'episodio, vi ho fatto vedere gli FPS, dicendovi che di fatto, io sono riuscito a sforzare il gioco all'estremo. Perché nel mio PC, che non è un PC chissà cosa, quindi in realtà non è un PC della NASA, ho un i7 7700 normale, ho una 1070 GTX, non ho una 1080 Ti, non ho un 7700K, non ho le ultime tecnologie, quindi in realtà è un PC abbastanza performante, quanto costoso, però ormai, ora come ora, risulta quasi medio alto, non più di fascia alta, perché è già stato superato. Beh, nel mio PC, The Sims 4, con tutti i settaggi ultra, tutti i DLC, sapete che io li ho tutti, gira fisso a 200-250 FPS. Nel lotto del resort, faccio 30 FPS, perché il gioco lavora su un lotto 64x64, pieno di piscine, e sappiamo tutti che l'acqua e le foglie, sono i nemici naturali delle schede video, e anche con tutti gli aggeggi, i pesci che sputano l'acqua, quindi in realtà anche quello, influisce, perché deve caricare anche l'animazione, dell'acqua che esce dal pesce, piuttosto che il fatto, che si tratta di un enorme ristorante, un ristorante dove i camerieri, per assurdo, dovrebbero spogliarsi, nuotare, per portare i piatti, dall'altra parte del lotto, nei tavoli, quindi è normale che il gioco è sotto sforzo, però ragazzi, se non fosse un ristorante, se fosse un parco, probabilmente andrebbe a 200 FPS fissi, anche un lotto di quel genere, per farvi capire, quanto la qualità sia importante, perché tutti ci stiamo focalizzando, sul fatto che la neve è bassa, o alta, ma nessuno davvero, si è messo sotto a capire che, come vedete da questa immagine, a velocità 3, la pioggia non lagga, quindi pensate un po' a quanto lavoro c'è dietro, e ripeto, quando c'è da criticare, io sono il primo, ma quando c'è da fare un plauso, agli sviluppatori, come in questo caso, io lo faccio, perché davvero, mi hanno dimostrato, in questi 4 anni, che ogni volta che io installo un'espansione, il gioco non è risente, io ho installato tutte le espansioni, tutti i DLC, a parte il fatto che sono molto molto più piccoli, in megabyte, rispetto a quelli del 3, perché sono ottimizzati, ma oltre a quello, ogni volta che io installo un nuovo DLC, e provo il gioco, mi stupisco sempre del fatto, che sembra che io non abbia aggiunto nulla, mentre su The Sims 3, ragazzi, lo sappiamo tutti, ora io ho solo 3 espansioni attive, quando le avrò tutte 11, cara grazia, se riusciremo a giocarci, e dovrò anche fare delle scelte, probabilmente dovrò eliminare qualche espansione, per farlo andare fluido, per farvi capire un po' la differenza, davvero, che c'è fra l'uno e l'altro, senza contare che non ho mai eliminato le cache, dalle cartelle, l'ho fatto ieri dopo un anno di The Sims 4, rendendolo sicuramente molto molto più veloce, perché quello influisce sulla velocità, e probabilmente oggi, quando giocherò e registrerò l'episodio, della serie principale di domani, uscirà anche domani, probabilmente mi accorgerò che andrà molto molto più fluido, quindi in realtà, di cosa stiamo parlando? Ok, non ci sono certe cose, ok, mancano delle cose, ma come vi dico sempre, è giusto applaudire, e quindi fare i complimenti, a un lavoro così perfetto, incompleto se volete, per quanto mi riguarda, questa espansione già così, vale oltre 40 euro, e vale davvero tutti i soldi che ci chiedono, secondo me, stagioni è davvero bello, se poi aggiungeranno qualcosa di nuovo, ben venga, ben venga, perché ci sta, ovviamente tutti vogliamo molti molti più contenuti, però tengo a precisare questo, dal lato tecnico, fidatevi che The Sims 4, non è un gioco scadente, tutt'altro, quindi sì ragazzi, le news a oggi, a questo momento, probabilmente, chissà, magari uscirà un nuovo video più tardi, sono queste, io sto controllando tutte le pagine, ancora, per vedere, davvero, domani aspettiamoci un teaser, un trailer, l'ha praticamente confermato SimGuruGeorge, che ci fa vedere tutte queste dinamiche, spero, e spero non troppe cose, perché vorrei avere un po' di effetto sorpresa, sabato, chissà, però lo vedremo in diretta, come vi ho detto, un po' come quello di presentazione, sarà una sorta di reaction, dove vediamo il trailer insieme, appena uscirà, e commenteremo, appunto, tutte queste cose, perché sai, un conto è vedere l'iconcina, qua su Twitter, un conto è vederlo in gioco, con un trailer, o magari con un gameplay, quindi, mi aspetto davvero, di vedere queste cose, non vedo l'ora, finalmente, di capire di più. Detto ciò, io vi dico che per questo video, è tutto, io spero che vi sia piaciuto, e se così, vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale, e farmi sapere sotto nei commenti, che ne pensate, vi do l'appuntamento, a più tardi, con l'episodio, della serie principale, di The Sims 4, bello bello tosto ragazzi, seguitelo tutto, e come sempre, vi do l'appuntamento, ai prossimi video, e vi dico, ciao a tutti.